Era circa il 72 quando ho iniziato a entrare in simbiosi con l'aeronautica. Una visione che va oltre l'ordinario, passando il testimone da padre in figlio. Lo stesso testimone che oggi passa dal trail al nuovo G70. L'attenzione al dettaglio, la ricerca di ogni singolo componente del materiale che possa eccellere in ogni sua parte. Ma l'innovazione non può essere altro che il risultato di una connaturata passione che non smette mai di farmi puntare in alto verso il cielo. Probabilmente non c'è altra cosa che vorrei fare. La G70 shares the same DNA of the well-proven trail, the well-known grappa wing folding system to easily store and transport the aircraft. New two side-by-side seat arrangements and the tricycle landing gear. 600 kg is the max takeoff weight. The aft fuselage, the wings, and the tail surface are all made of aeronautical aluniment. The G70 provides the most delightful handling, structural robustness, uncontested habitability, and excellent flight performance. Its superior aerodynamic characteristics allow it to cruise at 100 knots, which combined with a fuel capacity of 100 litres, make the G70 an excellent cross-country machine. And مت stay eating по warn currently. If you like, you can show your vision in a beautiful setting. Look what happened! Trump is a huge tent Armour. Grazie a tutti.